Ma in un sol giorno non ce la fecero ad arrivare a Brema, così verso sera giunsero in un bosco dove decisero di dormire. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un grosso albero, il gatto e il gallo salirono sui rami, il gallo fin su in cima dove si sentiva più sicuro. Prima di addormentarsi il gallo guardò ancora una volta in ogni direzione e gli parve di vedere in lontananza una lucetta. Chiamò i suoi compagni, non lontano da lì doveva esserci una casa perché si vedeva una luce. L'asino disse alziamoci e andiamo lì, qui l'alloggio è cattivo. Il cane pensò che un paio d'osso con un po' di carne non gli avrebbero fatto male.